Condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere per Antoine Rodin, 28 anni di crevola d'ossola, difeso dagli avvocati Marisa Zariani e Marco Ferrero a processo per omicidio stradale. È arrivata questa mattina la sentenza del GUP Elena Ceriotti al termine del processo con rito abbreviato per l'incidente del 20 aprile del 2018 a Domodossola, ha costato la vita al pensionato Gian Michele Margaroli di 74 anni, Rodin alla guida della sua Audi. Intorno alle 21.30 all'incrocio tra via Ballarini e via Sant'Antonio finì contro la Suzuki Vitara condotta da Margaroli, deceduto poco dopo Aldea del San Biagio. Pena ben più lieve rispetto alla richiesta del PM Fabrizio Argentieri di 8 anni di reclusione, già tenuto conto del rito abbreviato che dà diritto allo sconto di un terzo. Il giudice ha riconosciuto l'attenuante dell'avvenuto risarcimento ai familiari della vittima ed escluso l'aggravante della recidiva. Erano rimaste ferite in modo fortunatamente non grave la moglie di Margaroli, una diciannovenne che viaggiava sull'auto di Rodin. I legali difensori avevano contestato i risultati dell'etilometro che alla seconda misurazione sarebbe stato inferiore a 0,80 grammi per litro. Il drug test aveva rilevato la presenza di cannabinoidi, ma l'imputato aveva sostenuto di averne fatto uso diversi giorni prima dell'incidente.